Benedette queste carte, e mezzare un'avventura, E la storia di quest'anno è una cronaca, Eggi, 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 eggi. Yes, ma la storia di quest'anno è, Che fa questa la storia diccarli, Eggi, ve anche il cuore della storia, Che ragazzo, dice, eggi, 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 Così, eggi, eggi, eggi. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie.